Tin tin, informazione urgente, richiesta di revoca dello Scudetto 2006 all'Inter da parte della Juventus. Nuovamente, dopo aver perso praticamente ovunque, in ogni sede possibile, ancora una volta richiedono la revoca dello Scudetto. Ragazzi, state a problemi seri, ricordatevi una cosa, saremo la vostra ossessione per tutta la vita. Quello Scudetto, tanto da voi reclamato e tanto, come si dice, un'ossessione per voi, ragazzi, avete perso ovunque, in tutti i gradi di giudizio. Ancora continuate, ma quanta arroganza c'è nel vostro cuore, nella vostra società, ragazzi. Avete il cuore pieno di immondizia e arroganza. Ma come si fa ancora una volta a richiedere questa revoca dello Scudetto, bla 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 bla. Oh, sono passati 13 anni, ma ancora vi rendete conto quanto siete ossessionati e ridicoli. Perdete anche stavolta. Ma che, cioè, è come andare a pagare a voi, cioè, come se io commettessi un omicidio, ok? Tutti, come se ci fossero tutte le prove a mio discapito. E io, ancora lì, una volta a pagare avvocati, a pagare avvocati, per uscire di galera, per uscire indenne dalla cosa. Ragazzi, rassegnatevi. E rassegnatevi, rassegnatevi. Avete vinti tanti di Scudetti? Ma vi serve, direi, di far revocare quello Scudetto che, per quanto mi riguarda, sinceramente, vale più della... ci chiamate cartonati, ma per me vale come niente, praticamente. Almeno per quanto mi riguarda. Poi gli altri non lo so. Ragazzi, rilassatevi! Che tanto perdete anche stavolta! Ciao, belinni! Ciao! Ricordatevi sempre, tifosi nerazzurri, che la vostra Lucri vi vuole bene. E sempre, forza Inter!